Torri in luce e Torri in festa, siamo con la professoressa Marina Fumo, architetto. Oggi un convegno dedicato alla cura. Il suo ruolo è molto importante soprattutto nella cura dei monumenti, dei pezzi di storia del passato. Quanto è importante il restauro e quindi la tutela del passato? È importantissimo perché non possiamo permetterci di costruire ancora e non possiamo tenere tanti edifici abbandonati fondamentalmente. Non pensiamo soltanto ai tanti edifici di architettura rurale che sono abbandonati il paesaggio e che fanno anche pittoresco, anche se abbandonati. Pensiamo ai tanti edifici industriali che sono abbandonati, quelli che occupano delle aree, dei volumi enormi. Altrove in Europa, nel mondo, questi si riciclano letteralmente. O più che di restauro, parlerei proprio di riciclare gli edifici perché possono essere utilizzati per altre funzioni, migliorati, sempre con tecniche, materiali che siano ecocompatibili ovviamente, per evitare di costruire ancora. Perché come dicevo poco fa, noi siamo la specie animale più pervasiva sul pianeta e dobbiamo un po' contenirci. Perché altrimenti arriva un virus e ci fa fuori. Quindi bisogna trarre qualche lezione positiva da questa esperienza e ripensare a una modalità differente di vita, avendo più cura dell'esistente e più cura della cultura che lo ha generato. Perché c'era una cultura materiale. Prima dicevamo adesso non si trova qualcuno che ti sa fare un muro. Se una parracina crolla non ci sono tanti che la sanno fare, per esempio. Quindi queste piccole opere, che non sono necessariamente dei monumenti, ma di murarie, adesso ci vorrebbero degli specialisti. Quindi è molto importante curare non solo gli edifici, ma avere cura di quella cultura che li ha generati. Quindi reattivare dei cantieri scuola, dei corsi di formazione pratici. Io insegno ingegneria e vedo i ragazzi come si entusiasmano se mettono le mani in pasta. Cioè se gli dai una cazzuola in mano e gli fai fare un intonaco, sono felicissimi. Perché non possiamo farli studiare teoricamente per cinque anni per una magistrale, poi magari ce ne mettono sette e poi non si sono mai sporcati le mani e le scarpe. Quindi è molto importante tornare a questo, secondo me. Ischia è modernità, in un certo senso, che va a cozzare con la storia, ma è anche un mondo rurale. Quindi si parla anche di una certa architettura che mira al recupero del mondo rurale. Sì, questa andrà recuperata, è una cosa importantissima, anche col PNRR, diciamo il piano nazionale di ripresa e resilienza, questa architettura rurale, il paesaggio rurale dovrà essere curato maggiormente. Ci siamo accorti che va curato ovviamente il paesaggio in relazione all'economia rurale. Quindi bisognerà fare in modo che tanti giovani possano intraprendere delle imprese.